Cara Alessandra, grazie, grazie per questo passaggio di testimone. Anch'io aderisco a questa bellissima iniziativa. Mi raccomando, per donare, andate sul sito specialolympics.it e adotta un campione. Io adesso, a chi potrei passare la mia nomination? Filippo Magnini. Tutti quanti insieme possiamo dare una mano, perché i nostri campioni speciali hanno bisogno del tuo aiuto. Special Olympics.